Buongiorno da Mr. Bloom e benvenuti a questa prima puntata di Estratti di Bloom, delle piccole pillole di informazione nel tempo di un'estrazione. Oggi ci farà compagnia il Chemex, ovviamente caffè appena macinato e cominciamo l'estrazione. Nel frattempo parliamo ovviamente di caffè, cominciando dall'inizio. L'inizio è una domanda che io faccio sempre o spesso durante le mie lezioni e i corsi introduttivi sul caffè. Ed è, che cos'è il caffè? Bene, a questa domanda normalmente la risposta più comune è il caffè è una bevanda, il caffè è un momento, un rituale, un momento d'incontro, un momento in cui si stringono dei rapporti e ci si trova con gli amici, oppure è un momento per affrontare la giornata con il piede giusto. Perfetto, il caffè è tutto questo, però noi partiamo dal principio. In principio il caffè, sapete che cos'è? È una pianta. E sì, ovvio direte voi, è una pianta. E cosa vuoi che sia? Però, tanto ovvio non è, se poi questa risposta non viene quasi mai data da nessuno. Quindi nessuno risponde alla domanda che cos'è un caffè? Una pianta. Bene, cominciando a parlare di caffè, bisogna partire dalle radici, appunto, e quindi dalla pianta. Parlando della pianta parliamo anche dei luoghi di produzione, dove il caffè nasce, dove il caffè cresce. Bene, il caffè cresce nella coffee belt. La coffee belt è questa cintura vera e propria, per questo si chiama belt, che sta tra il tropico del cancro, qua sopra, e il tropico del capricorno, qua sotto. Tutti i paesi che stanno all'interno di questa fascia, all'interno di questa cintura, sono potenzialmente dei paesi produttori. Ovviamente dipenderà sempre dal microclima di quel paese, quindi dipenderà dalla latitudine, dall'altitudine, dalla quantità di sole, dalla quantità di pioggia che quella particolare zona produttiva riceverà. Però ecco, tutti i paesi che stanno all'interno di questa cintura sono potenzialmente dei paesi produttori di caffè. Il caffè è quindi una pianta che genera un frutto, una pianta sempre verde, che genera una drupa o una ciliegia. Una ciliegia che somiglia un po' a questa. Adesso in questo caso questa ciliegia è secca, perché ovviamente averla fresca diventerebbe un po' difficile, un po' complicato. All'interno di questa ciliegia ci stanno i nostri semi di caffè. Ecco la prima particolarità del caffè. È una pianta da frutto da cui anziché ricavare la polpa del frutto, si ricava il seme. Normalmente di un frutto cosa facciamo? Mangiamo la polpa, ci possiamo fare dei frullati, delle marmellate o delle preparazioni particolari, però normalmente è quella la parte che noi consumiamo di un frutto. Nel caffè succede invece il contrario. La polpa e la buccia sono elementi di scarto, ciò che invece io vado a ricavare sono i semi che stanno all'interno. Ecco, i semi che stanno all'interno non hanno direttamente la struttura del seme sotto la polpa, hanno il cosiddetto pergamino, una struttura che appunto è simile alla pergamena per colore e anche per consistenza e per struttura, che se io vado a rompere, come sto facendo in questo caso, andrò a trovare il mio seme del cosiddetto caffè verde. Allora, caffè verde è un'altra domanda che mi viene rivolta spesso quando mi si chiede ma tu che lavoro fai? Io faccio l'importatore di caffè verde. E cos'è il caffè verde? Il caffè verde non è nient'altro che appunto la materia prima che una volta tostata, macinata ed estratta andrà a produrre la mia bevanda perché il caffè si consuma come bevanda. Quindi tutto il caffè che arriva dai paesi produttori di cui abbiamo parlato si chiama caffè verde. Quindi non è come succede per il tè, ad esempio, un tè verde è una particolare lavorazione in cui si ricava la foglia del tè e diventa tè verde. Nel caffè questo non succede, il caffè è tutto verde, quindi la materia prima quando arriva nei luoghi di importazione, come in questo caso siamo a Trieste, città natale di Mr. Bloom, il caffè verde rappresenta la materia prima, la materia grezza che deve essere ancora tostata. Come si ricava un seme da un frutto? Quindi come si arriva da questo stadio o da questo stadio a questo? Bene, questo sarà argomento del prossimo video in cui parleremo di lavorazioni e di tutto quello che succede appunto nelle fasi di lavorazione nei paesi di produzione. Noi per il momento ci salutiamo, il nostro caffè è terminato, il tempo di una estrazione e Mr. Bloom vi saluta, stay bloomish! Grazie! 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 Grazie!